Senti, Erika, tu non hai mai desiderato di essere adottata e di andare a vivere in un altro posto? No. Per scegliere me dovrebbero essere delle persone insolite. Prendiamo questa qui. Vediamo di chiarire subito alcune cose. Prima di tutto mi chiamo di chiare. Sono bella Iaga e sono una strega. Va bene. Tu prometti di impegnarti a insegnarmi la magia e io accetto di farti da assistente. Incantesimo per vincere è una mostra canina. Nessuno di questi mi sarà utile. L'incantesimo che ti interessa tanto si trova nelle ultime pagine. Ma tu stai parlando! Sì, ma non sono un grande chiacchierone. A proposito, in questa casa vige una regola molto importante. Qualunque cosa accada, non devi mai per nessun motivo disturbare Mandragora. Erwig? Quando una strega se ne va, può sostituirla solo un'altra strega. Allora mi insegnerai la magia? Cominciamo subito? Allora mi insegnerai la magia.